ti sei ucciso mentre andate in questo nuovissimo video adesso guardate credo che l'avevo già fatto vedere qua ci sono i nostri carissimi pesonini c'è il carissimo pesonino subito che si incastra matti il corrido ras che il pesce pulitore infatti c'è un'altra cosa ancora più importante nascondila bene nascondila ok hanno 3 1 2 3 1 2 3 e no dovete lasciare like e iscrivervi bravi anzi bravo e 3 e 2 e 1 o tieni matti ve lo faccio vedere 3 2 1 ecco la carissima polpettia un coniglietto nano che graffia però guardate è venuta in famiglia dal 9 maggio al mio compleanno quindi per petto è fatto il 10 maggio guardate quanto carina se alcune volte sentite sapete gta 5 se alcune volte allora se sapete cos'è gta 5 scrivete sotto nei commenti perché ha il respiro dell'elicottero di gta polpetta faccia vedere guardate la fotocamera qui guardatela iiii iii a due occhi diversi il colore è bianco crema a si da povo andrà in piscina guardate Il colore della pelle Cioè del pelo è bianco crema Un occhio è Azzurro E un po' grigetto E l'altro è veramente tutto grigio Comunque Spero che questo video vi sia piaciuto E il nuovo animaletto in famiglia È arrivato E ciao ciao Iscrivetevi al canale e lasciate like Ciao Ah Non vi ho detto come si chiama Si chiama polpetta E un saluto anche da polpetta Non è vero da ero io E se ne vede in si L'avete sentita Ciao ciao Vi ho detto anche di lasciare like Ciao